Ciao ragazzi e ciao ragazzi, io sono Antonio e anche oggi come ogni settimana nuovo video a Temerry Potter ma prima di cominciare vi ricordo come sempre che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete sempre un paio di cazzini in omaggio con ogni acquisto, il codice è utilizzabile tutte le volte che vorrete e accumulabile con tutte le offerte in corso di Pampling. Sotto in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon con tantissimi prodotti scelti da me che ho già acquistato, che ho intenzione di acquistare. Detto questo ragazzi, Megahall Temerry Potter, io sono un tipo che si trattiene tanto dall'acquistare nonostante quello che possa passare dai video, compro davvero il minimo indispensabile, solo quello che davvero mi piace e che voglio mettere in collezione, ma quando mi capitano delle offerte super super imperdibili ragazzi devo anch'io cedere e acquistare quello che trovo, soprattutto ultimamente su Amazon e su Vinted ho davvero recuperato tante tante cose. La prima cosa che ho recuperato proprio durante il Break Friday e che ho condiviso con voi su Instagram, so che in molti l'avete acquistata è la versione Steelbook del film I Segreti di Silente questa versione con la copertina in metallo, che a me piace moltissimo e che ho pagato circa 10 euro, 9 e qualcosa, non ricordo esattamente è passato un po' di tempo, ma non potevo lasciarla lì perché non avevo una versione on video di questo film e quindi l'ho recuperata al volo a questo prezzo davvero molto molto basso anche perché si tratta della versione 4K con contenuti speciali doppio disco perché abbiamo sia la versione 4K che quella full HD e quindi non potevo lasciarla a quel prezzo ma restando a tema con video, volevo cogliere l'occasione per mostrarvi questi Blu-ray che mi sono stati inviati dagli Universal Picture Home Entertainment che ringrazio sempre tantissimo ve li ho già mostrati, ve li ho già fatti vedere su Instagram qualcuno anche in video ma volevo appunto cogliere l'occasione per farveli vedere tutti mi hanno inviato Downton Abbey 2 Una Nuova Era io sono super fan della serie Downton Abbey il primo film mi è piaciuto tantissimo il secondo è molto carino ma lo trovo leggermente sotto rispetto al primo film secondo me alcune cose erano evitabili ma voglio vedere dove andranno a parare col terzo film visto che è stato già annunciato in ogni caso tornare a Downton è sempre molto molto bello e quindi io ve lo consiglio ci sono anche dei contenuti speciali, commenti è davvero molto ricco questo Blu-ray e poi abbiamo anche Jurassic World il dominio, l'ultimo film della trilogia della nuova trilogia che purtroppo non ho ancora recuperato ma che devo assolutamente recuperare durante le vacanze natalizie e quindi un pomeriggio verrà dedicato a questo film non vedo l'ora assolutamente e anche in questo caso versione stesa e versione cinematografica più contenuti speciali e ancora abbiamo questo che è l'ultimo arrivato il film edizione speciale più due mini film di Minions 2 come gru diventa cattivissimo questo anche da recuperare per Natale che vedrò assolutamente con mio nipotino che è super fan dei Minions quindi ci siamo quindi ci siamo ragazzi abbiamo coperto le vacanze natalizie coi film da vedere ma adesso grazie ancora all'Università Picture Home Entertainment per questi invi ma adesso passiamo agli altri recuperi potteriani un recupero sempre fatto su Amazon che avevo preordinato ormai da mesi e mesi quest'estate è il volume di Mina Lima The Magic of Mina Lima questo è un volume celebrativo di Mina Lima di tutta la loro carriera all'interno del Wizarding World e ci raccontano anche come si sono incontrati Mina e Lima queste due entità mistiche quest'uomo e questa donna che ormai lavorano insieme da 20 anni e appunto hanno realizzato questo volume che vi dirò è molto bello molto ben curato ma se non siete proprio fan di Mina Lima o fan dei volumi di queste monografie eccetera eccetera è evitabilissimo perché è ricco di immagini non c'è neanche tantissimo da leggere io l'ho acquistato in lingua inglese e ho avuto la fortuna di preordinarlo a soli 25 euro quando il prezzo di copertina è di 40 sterline e infatti per un periodo si è trovato anche a 50 euro su Amazon poi il prezzo è diminuito credo che adesso viaggi attorno ai 35 euro io lo pagai circa 25 ve l'avevo anche condiviso all'epoca alcuni l'hanno prenotato come me a quel prezzo non l'ho preso dall'Inghilterra autografato perché tra dogane e spedizione un salasso e quindi anche no poi possiedo già due volumi autografati e mi bastano e mi avanzano l'unica cosa secondo me degna di nota di questo volume è che all'interno nelle primissime pagine troviamo la riproduzione delle lettere delle prime lettere che si sono scambiati quindi Mina e Lima Edoardo e Mirafora e quindi abbiamo qui queste due lettere una a destra e una a sinistra e poi all'interno abbiamo una sorta di script che ci va a mostrare il primo incontro di persona avvenuto negli studi di Londra quindi qui abbiamo questa specie di racconto di resoconto del primo arrivo di Edoardo a Londra e di come ha incontrato Mirafora negli studios e poi come è nato il loro sodalizio ormai ventennale quindi molto molto carino in una delle loro interviste hanno anche fatto capire che presto apriranno un negozio anche in Italia e sembrerebbe Milano come location ovviamente tutto viene fatto a Milano quindi anche questo a Milano e niente ragazzi però dobbiamo essere contenti perché comunque vogliono puntare anche sull'Italia dopo il Giappone dopo l'Inghilterra dopo la Corea quindi comunque molto molto bello che arrivino anche in Italia e ve lo linko sotto in info box magari più avanti ci farò un video dove lo sfoglieremo assieme per intero e altro volume che ho recuperato su Amazon è Harry Potter e l'Ordine della Fenice illustrato da Jim Kay in questo caso c'è un po' di magone perché Jim Kay ha dichiarato che non continuerà il suo lavoro su questa saga quindi sesto e settimo volume verranno realizzati da un altro artista già questo è in collaborazione con Nipicker che l'ha appunto aiutato a terminare questo volume io spero semplicemente che però gli ultimi due mantengano il suo stile che magari loro riescono a trovare qualcuno che ha uno stile credo che già si sappia il nome ma non lo ricordo che comunque vada un po' ad imitare lo stile di Jim Kay perché non avrebbe senso avere cinque volumi in un modo e poi gli ultimi due con uno stile completamente diverso anche se quel che arriverà arriverà e ce lo prenderemo non sono rimasto deluso l'ho già sfogliato anche di questo faremo lo sfoglieremo insieme in un video meglio rispetto al terzo volume che mi aveva deluso parecchio questo arriva dopo più di due anni dall'ultimo forse anche tre addirittura il lavoro è un gran lavoro le immagini sono davvero molto molto belle le illustrazioni sono davvero di altissima qualità anche in questo caso non sono tantissimissime però noi vorremmo sempre di più quindi in ogni caso è abbastanza ricco ci sono alcune pagine vuote parecchie però quelle piene danno davvero molta soddisfazione quindi io lo promuovo assolutamente anche sapendo che Jim Kay appunto ha sofferto molto nella realizzazione di questo volume perché anche lui ha dichiarato che non pensava che accettare questo lavoro avrebbe avuto un impatto così grande sulla sua vita privata e quindi ha deciso di mollare comprensibile sicuramente molta molta pressione è una mole di lavoro non indifferente quindi vedremo come continueranno questi volumi il prezzo di copertina di questo è di 49 euro edito da Salani ve lo linko in Infobox che credo su Amazon sia comunque un minimo scontato e poi adesso passiamo a Vinted su Vinted ho recuperato molte cose ultimamente alcune anche molto rare sono molto contento la prima che non è rara ma che mi ha portato a conoscere di persona uno di voi è questo bicchiere della burro birra di Londra con la grafica di Mina Lima lo cercavo da tanto tempo ha la stessa grafica della nuova bottiglia di burro birra che già ho io possiedo al giacadice vecchio quando andai la prima volta ormai dieci anni fa e quindi mi piaceva tantissimo avere anche questa versione che viene appunto data al bar degli studios quando si acquista la burro birra con souvenir col bicchiere souvenir altrimenti si compra quella nel bicchiere di plastica che poi si butta in questo caso una burro birra in questo bicchiere credo costi proprio intorno ai 10 euro e io l'ho acquistato per 10 euro con una di voi che mi segue non lo sapevamo io non sapevo che lei mi seguisse l'abbiamo scoperto quando ci siamo incontrati quindi è stato molto molto bello spero di rivederla perché era davvero molto molto simpatica e quindi questo va a finire in collezione e rimanendo in tema burro birra ho recuperato su Vinted anche questo che è il barilotto di burro birra con le caramelle all'interno è uscito da poco si trova in Inghilterra in America in Italia viene importato finalmente da qualcuno ci sono un po' di siti che la vendono io quando l'ho preso ancora non si trovava e l'ho preso da un ragazzo che l'aveva acquistato da un'altra parte e non l'aveva mai aperto e quindi l'ho pagato circa 12 euro credo che è forse il prezzo comunque di mercato corretto che si trova in questo momento ma sono super curioso di aprirlo e di assaggiare le caramelline che ci sono all'interno ok l'abbiamo aperto e ecco qui la bustina con le caramelle ok ci sono delle bottigliette di burro birra color ambra e all'interno appunto ci saranno una decina di caramelle sono davvero poche per quello che costano eccoci qui le ho aperte ci sono una decina di caramelle e hanno la forma di un boccale di burro birra un mini boccale il profumo è quello di caramello tantissimo fanno super profumo di caramello di caramella mu e vediamo andiamo ad assaggiarla e vediamo come sanno non sanno di niente sono mollicce gelatinose hanno un po' retro gusto di caramello che effettivamente ricorda un po' la burro birra ma la burro birra è decisamente meglio è frizzante ha quella cremina sopra è molto dolce ambrata però ha un sapore anche di vaniglia questa ha soltanto di zucchero un pochino di caramello ma no non mi piacciono bocciatissime hanno anche un retro gusto un po' di plastica non sono grand che no sicuramente non valgono 12 euro sono 10 caramelle l'unica cosa di carino è il barattolo che adesso è in metallo e lo andrò a mettere in collezione con le altre cose sapevo che sarebbe stata una mezza truffa però volevo il barattolino aiuto e niente sapevo a cosa andavo incontro le caramelle sono davvero pessime ragazzi quindi non compratelo per le caramelle ma compratelo solo se volete il barattolino meglio ancora se trovate il barattolo vuoto così lo pagate anche meno altra cosa che ho recuperato sempre su Vinted è la bottiglia del succo di zucca bottiglia che vendono solo anzi vendevano solo nei parchi divertimenti di Orlando e in Giappone ma che adesso non si trova più neanche nei parchi credo che costasse parecchio realizzarla non costava neanche tanto nei parchi circa 10 dollari ma che finalmente sono riuscito a recuperare ed è questa qui la bottiglia di succo di zucca realizzata da Mina Lima col tappo a forma di zucca e appunto le grafiche di Mina Lima questa è piena io avevo intenzione di assaggiarla credevo nella mia stupidità di poterla assaggiare ma mi sono accorto che è scaduta nel 2016 quindi è scaduta 6 anni fa direi di non rischiare la morte per assaggiare il succo di zucca sono molto curioso ma purtroppo è così è andata così e quindi va bene lo stesso magari ce lo racconterà Silvia di SissiTube lei è stata ad Orlando qualche anno fa e ha acquistato questa bottiglia ricordo che l'ha bevuto quindi magari Silvia se stai guardando questo video commenta e facci sapere come sa questo succo di zucca perché siamo tutti curiosi in ogni caso la bottiglia è più grande di quanto pensassi e quanto la mia testa è enorme è marcata con il logo Warner Bros anche la zucca di plastica è marcata Warner Bros anche dietro l'etichetta è davvero molto molto bella non credevo fosse così bella sono super contento l'ho pagata una follia l'ho pagata tipo 40 euro con le spedizioni ma ragazzi per la collezione si fa questo ed altro e quindi la volevo tantissimo e pazienza altra spesa folle siate contenti per me che sono felice di spendere 40 euro per una bottiglia perché so di essere pazzo di avere dei problemi poi ho recuperato ancora altre cose come ad esempio nel frattempo ancora pezzi di questa caramella tra i denti che non vuole andare via ho recuperato anche il decoy detonator questo è appunto la trombetta che cammina che abbiamo visto nel film dell'ordine della finisce quando i ragazzi vanno al ministero della magia per entrare e introdursi nell'ufficio di Dolores Sunbridge e per creare un diversivo utilizzano questo diciamo questo giocattolo ma non è un giocattolo è appunto questa bomba che crea un frastuono realizzata dai gemelli Weasley infatti abbiamo sopra anche il logo dei Tiri Vispi e la confezione anche in questo caso e anche il design della trombetta è stato realizzato da MinaLima come tutto praticamente funziona con delle batterie che sono incluse emette dei suoni viene caricato a dinamo viene poi lasciato correre è molto carino ma devo dire che a me piace più la scatola che il prodotto in sé eccolo qui questa è la trombetta è molto molto carina sotto ha le ruote e poi quando la si lascia andare emette dei suoni che sinceramente non staremo qui ad ascoltare perché sono abbastanza cacofonici ma eccola qui mi piaceva tanto la volevo in collezione anche questa pagata alla fine della fiera circa 40 euro su Vinted ma ragazzi l'alternativa è andare a prenderla in America o in Giappone perché neanche a Londra viene venduta e non capisco il perché molti prodotti non si trovano a Londra ma si trovano solo sul mercato americano e questa cosa devo dire che mi scoccia parecchio e ancora non è finita qui perché grazie a uno di voi che me l'ha segnalato su Instagram mi trovate su Instagram come antonio.seria mi ha segnalato che era in vendita da una ragazza francese il tacquino di Mina Lima di difesa per le atti oscure per principianti il corso base che viene utilizzato nell'Ordine della Fenice da Dolores Sunbridge e mi piace davvero tanto ha le pagine bordate in rosso metallizzato troviamo questi gatti in finitura lucida sia sul fronte che sul retro all'interno come sempre è semplicemente un quaderno a righe ma mi mancava l'ultimo e finalmente ho completato la mia raccolta dei tacquini di Mina Lima e sono super contento non li presi quando andai a Londra al loro negozio perché dal vivo non mi erano piaciuti anche perché tutti di una volta avevano un costo abbastanza elevato tutti e sei e comunque non erano fatti bene come sono fatti adesso erano diciamo meno curati nei dettagli mentre adesso ad esempio la versione del libro di pozioni dei pincemi di mezzosangue ha la copertina foil mentre prima non lo era e non aveva alcun senso e infatti adesso finalmente li ho recuperati quindi sono super super contento di aver finito questa raccolta e poi in conclusione ho recuperato anche un oggetto per soli 3 euro quando l'ho visto ho cliccato subito su compra senza neanche pensarci un oggetto che si trovava in una loot crate a tema ballo del ceppo di circa penso due anni fa e questo oggetto è un piatto celebrativo del ballo del ceppo di Hogwarts ed è un piatto in vetro eccolo qui a tema ballo del ceppo spero riusciate a vederlo ed è come se fosse un prop come se fosse un piatto che veniva utilizzato durante la scena di ricevimento appunto del torneo 3 maghi del ballo del ceppo in casa mi piace davvero tanto in vetro carino piccolino con la scritta ballo del ceppo al centro e poi tutte le varie case abbiamo qui Hogwarts al centro Bubbatons Durmstrang quindi è un po' un piatto per ricordare il torneo 3 maghi e il quarto anno di scuola di Harry mi è piaciuto tanto era l'unica cosa carina dentro quella box infatti come spesso dico meglio recuperare soltanto l'oggetto che vi piace di una box che andare ad acquistare la box per intero spendere 60 euro e poi dover buttare tutto per tenere una cosa sola quindi io ormai recupero solo l'oggetto che mi piace perché con un po' di diciamo di costanza cercando su Vinted si riesce a trovare ci vuole tempo ci vuole pazienza basta cercare ogni giorno e prima o poi qualcosa salta sempre fuori ormai lo so per esperienza bene ragazzi mi sono salassato per bene in questi ultimi due mesi ho speso non so neanche più quanto ma sono super soddisfatto fatemi sapere poi nei commenti cosa vi piace di più tra tutte le cose che ho recuperato nell'ultimo periodo fatemi sapere cosa mi ha anche in collezione cosa vorreste vedere qui sul canale perché ormai stiamo arrivando c'è sempre qualcosa da comprare ma diciamo che le cose più comuni le ho già prese tutte e quindi adesso mi sto spingendo sempre un po' oltre con cose sempre un po' più ricercate e quindi ragazzi fatemi sapere nei commenti se ci sono cose che magari mi sono sfuggite e che potrei recuperare anche su Vinted segnalatemele sempre soprattutto su Instagram mandatemi un messaggio privato antonio.seria io vi rispondo sempre subito nel più breve tempo possibile e sono sempre super contento quando mi fate delle domande o avete dei dubbi o mi proponete qualcosa sempre ben accetto ragazzi detto questo mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un mi piace condividete il video commentate fate tutte le solite cose io adesso vado a posizionare tutta questa bella roba nella mia collezione e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao grazie a tutti